Visita del direttore marittimo della campagna agli uffici locali marittimi dei circondari di Palinuro e Agropoli. Nei giorni del 13 e 14 settembre, il direttore marittimo della campagna, ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, ha fatto visita agli uffici locali marittimi di Scario, Sapri, Marina di Camerota, Acciaroli e Castellabate, ad accoglierlo il capo di compartimento marittimo di Salerno, capitano di Vascello Daniele Di Guardo, e di rispettivi i capi del circondario marittimo di Palinuro, tenente di Vascello, Amalia Mugavero, e di Agropoli, tenente di Vascello, Valerio Di Valerio. Durante la visita presso l'ufficio locale marittimo di Scario, l'ammiraglio Vella ha potuto ricevere anche la visita del sindaco di San Giovanni Appiro, Ferdinando Palazzo. Un gesto di profonda vicinanza al personale della Guardia Costiera, quotidianamente impegnato in prima linea e fortemente voluto dal direttore marittimo in vista della conclusione dell'intensa stagione estiva. Parole di ringraziamento sono state rivolte a tutto il personale per l'incomiabile lavoro quotidianamente svolto in mare ed a terra in un territorio così importante per tradizione e vocazione marinara.